Ciao a tutti amiche e amici di BPM Power e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo del Notebook 2 in 1 Dell Inspiron 7306. Prima di incominciare però vi invito, se non lo avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube ed attivare la campanellina per non perdervi nemmeno un nostro video. Iniziamo subito! Questo laptop è interamente realizzato in alluminio. La finitura anodizzata offre un tocco fresco ed elegante con uno spessore di soli 15,7-15,9 mm e un peso di appena 1,23 kg. Le cornici intorno al display sono sottili e appena sopra è presente la fotocamera da 720 pixel con otturatore per la privacy, perfetta per le videochiamate. La tastiera invece è retroilluminata con la corsa dei tasti breve, il che rende la digitazione molto confortevole. Nell'angolo in alto a destra si trova il pulsante di accensione, che funge anche da lettore di impronti digitali. Sul lato sinistro del notebook è presente l'ingresso di alimentazione, il connettore HDMI e una porta Thunderbolt 4, mentre sulla destra c'è una porta USB Type A 3.2 generazione 1, un jack audio da 3,5 mm e un lettore di schede microSD. Dell Inspiron 7306 è rotato di un pannello IPS touchscreen. La sua diagonale è di 13,3 pollici, la risoluzione è di 1920x1080 pixel e la densità è di 166 ppi. Infine, la frequenza di aggiornamento del display è di 60 Hz. Questo laptop è disponibile in due configurazioni del processore, Intel Core i5 e i7 di undicesima generazione, entrambi con un TDP da 15 Watt. Questo è il modello con processore Intel Core i7, un quad core con una frequenza turbo massima di 4,7 GHz e una cache di 12 MB. Ha 16 GB di RAM di tipo DDR4 e 512 GB di spazio di archiviazione. La scheda grafica integrata è l'Intel Iris Xe e il sistema operativo è Windows 10 Pro. Inoltre, i due altoparlanti da 2 Watt incorporati producono un suono di buona qualità. Per quanto riguarda la connettività, supporta il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi 6. Infine, questo laptop dispone di una batteria da 53 Watt ora, in grado di durare circa 13 ore e 20 minuti in navigazione web e 10 ore e 58 minuti circa in riproduzione video. Potete trovare il notebook 2 in 1 Dell Inspiron 7306 su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non lo avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci anche su Instagram. Mi raccomando, non dimenticate di attivare la campanellina per non perdervi nemmeno un nostro video. Ciao a tutti e alla prossima!